Ciao amici, eccoci a un nuovo capitolo delle videoconsulenze. Come sempre vi ricordo il numero in sovraimpressione per mandarmi le vostre videodomande che verranno pubblicate sul mio canale insieme alla videorisposta. E non dimenticate la parola d'ordine, questa è la legge. Avvocato Angelo, possedere un'arma in casa senza portodarmi è considerato reato? Facci sapere la legge. Per prima cosa è necessario fare un'importante distinzione. Una cosa è la detenzione dell'arma, un'altra il portodarmi. La prima consiste nel semplice possesso dell'arma. La seconda invece si sostanzia nel trasporto fuori casa. Come vedremo a breve, queste due diverse situazioni sono soggette ad adempimenti differenti. Più semplice nel primo caso, più complesso nel secondo. Prima però di stabilire se possedere un'arma in casa senza portodarmi è reato, è necessario spiegare cosa sia il portodarmi. Il portodarmi è un'autorizzazione che viene rilasciata a seconda dei casi dal questoro o dal prefetto e che autorizza il cittadino a portare con sé, da cui appunto il nome, un'arma. Le finalità del portodarmi possono essere svariate. Ad esempio c'è la difesa personale, o l'uso venatorio, oppure il tiro a volo. La concessione di tale licenza è soggetta ad un'ampia discrezionalità dell'autorità amministrativa, che può negarla se, a proprio parere, il richiedente presenta profili di pericolosità sociale. Invece per custodire armi in casa, anche se per collezionismo, bisogna fare solo una semplice comunicazione alla questura, non invece un'istanza. In questo caso, dunque, non è necessario attendere la successiva autorizzazione. Basta la dichiarazione all'autorità. Da quanto ti ho appena detto, è facile comprendere quindi la distinzione sostanziale tra la detenzione o il possesso dell'arma, che non richiede l'ottenimento del portodarmi, ma la sola comunicazione alla questura, e invece dall'altro lato il trasporto dell'arma per portarla fuori casa, per il quale invece ci vuole il portodarmi. In entrambi i casi, però, il mancato adempimento dell'obbligo prescritto dalla legge integra un reato. In altri termini, così come chi porta con sé un'arma fuori di casa, sia essa una pistola, un coltello o un tirapugni, commette reato, lo commette anche chi possiede un'arma in casa, senza aver fatto la comunicazione alla questura. Si tratta, infatti, del reato di detenzione abusiva d'armi. La pena prevista dall'articolo 697 del Codice Penale per questa condotta consiste nell'arresto da 3 a 12 mesi o l'ammenda fino a 371 euro. Lo stesso dicasi per chi eredita le armi senza averla comprate in prima persona. Pensa ad esempio al nipote che eredita la vecchia casa del nonno, nel cui attico sono custodite spade e pistole. Anche l'erede deve quindi fare la comunicazione alla questura. La legge prescrive l'obbligo di immediata denuncia della detenzione di armi, munizioni o materiali esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, magari se questo manca, al comando dei carabinieri. Coloro che sono in possesso di armi o parti di queste devono provvedere a denunciarla all'autorità di pubblica sicurezza presente sul territorio sempre entro 72 ore dall'acquisto o dalla ricezione. In via principale, gli uffici ai quali occorre fare riferimento sono la questura o il commissariato. Se questi però non sono presenti, l'atto va presentato alla stazione dei carabinieri che è competente per territorio. La denuncia dell'arma posseduta in casa non è complicata. Di solito il cittadino viene assistito dall'autorità nella compilazione di un modulino. All'esito della presentazione della denuncia, su di esso viene apposto un visto ed una copia conforme all'originale viene consegnata ovviamente all'istante. Sarà a sua cura poi custodire il documento con l'autorizzazione in modo da poterlo esibire alle forze dell'ordine in qualsiasi momento dovessero magari fare un controllo e fargliene richiesta. Ma una volta denunciata l'arma, come va custodita? Diversamente da quanto si possa immaginare, la legge non dà indicazioni specifiche su come debba avvenire la custodia di un'arma dentro casa. Tutto ciò che si richiede è di assicurare che la conservazione dell'arma avvenga con una certa diligenza, il più possibile nell'interesse della pubblica sicurezza. Si tratta di un comportamento molto simile al canone generale della diligenza del buon padre di famiglia, nell'ordine in cui adotterebbe ogni cautela necessaria per impedire che un fucile oppure una pistola possano finire nelle mani di una persona incapace di gestirli in sicurezza. È possibile custodire l'arma anche in un luogo diverso dalla residenza, come ad esempio nella casa vacanza, purché di ciò si dia atto nella relativa denuncia alla questura. La comunicazione alla questura relativa al possesso dell'arma in casa va ripetuta ad ogni cambio di residenza. Infatti, ogni volta che il possessore di armi trasferisce l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella denuncia, deve ripresentare la relativa denuncia. Inutile che ti dica che l'omessa denuncia costituisce anch'essa un reato. Bene amici, abbiamo terminato anche quest'altra videoconsulenza. Vi ricordo ancora una volta il numero in sovraimpressione per inviarci i vostri video che verranno pubblicati insieme alla mia video risposta. E mi raccomando, ricordate bene la parola d'ordine. Questa è la legge. Questa è la legge.